Ciao a tutti e bentornati a un nuovo video dei cinghiali sul tubo Sono Vessor in compagnia del buon Griffias Salve a tutti E questo che vedete è The Kindred Un gioco uscito il 24 febbraio Esatto Al prezzo di 15 euro su Steam in Early Access Precisiamolo subito, siamo alla versione mi sembra 0.4 Qualcosa di gente Tanto ormai erano tanti questi Ri Access maledetti E quindi in poche parole si tratta di un gioco, un gestionale, un simulativo di città In cui noi dobbiamo seguire i nostri bei simpaticissimi abitanti Nella creazione di una città, di un paese in una modalità sandbox creativa Per ora possiamo fare solamente questo Abbiamo due copie, volevamo giocarci in multiplayer Anche per far vedere com'è il multiplayer di questo gioco Ma non ci siamo riusciti Non c'è stato verso proprio Perché non c'è verso di entrare, ancora ci sono dei problemi E come creo il server, me lo fa creare E poi però non c'è verso di fare join Pazienza, quindi lo facciamo a due E vediamo un po' il gioco Allora, intanto che possiamo fare Bon Griffias Allora, intanto non so, raccattiamo qualcosa Vediamo, selezionare i personaggi sostanzialmente è abbastanza inutile In quanto possiamo sì vedere magari le loro statistiche, i loro bisogni, il loro equipaggiamento Ma per interagire con l'ambiente non è necessario In quanto noi andiamo direttamente a Perché non si sa, già Bisogna spostarsi con le levette Non con il mouse ma con le freccette Anzi con il WASD Andremo a selezionare Non c'è un albero Non c'è un albero, maledizione C'è un albero per fare le pietre Vabbè Intanto possiamo fare mine Selezioniamo la zona che insomma ci interessa E automaticamente, per esempio, i nostri personaggi andranno tutti quelli che sono liberi a fare il comando dato Penso sia in base, semplicemente torna indietro con il tasto destro Clicca su il crate No, no, quello nel mezzo Ci sta in mezzo allo schermo Ah, ok Ok, come vedete abbiamo solamente due, ce n'erano di altri E quindi di picconi Quindi di conseguenza solo due vanno Questo è quello con cui si parte Diciamo un po' come il carretto a Banished O altri giochi, insomma È la nostra base, il punto di partenza Sotto, vedete, c'è un menu in basso Qui abbiamo tutte le informazioni e tutte le cose che potremo fare nel gioco Quindi si può partire da fare le scale, tutto quello riguardo all'housing, eccetera Per esempio, come prima cosa, si potrebbe fare e vedere cosa richiede nel crafting Il tavolo dato al lavoro Vediamo un po' Machine Ecco lì, crafting bench Provo un po' a metterlo Ah, lo possiamo già mettere Allora, intanto mettiamo questo per iniziare a fare un po' di crafting Ok E lo vanno a mettere Ci servono però delle legne, sicuramente Dove ritroviamo le legne? Eh, dobbiamo cercare qualche legno a giro Possibile che non c'è un albero in questa mappa Eccolo qua giù Con il tasto destro Basta selezionare l'albero, sostanzialmente Vedete che abbiamo due opzioni L'harvest, ora vabbè In questo caso non serve a niente Esatto L'harvest ovviamente serve per raccattare, per esempio, frutta o cose del genere A seconda dell'albero Con cui andremo ad interagire La stessa cosa si può fare anche con gli animali Come vedete Possono cacciare o Allevare Allevare, insomma Ma non so se per allevarli basta inviare così il nostro personaggio Se c'è bisogno di creare un recinto, sinceramente Perché comunque Sì Ma un recinto serve sicuramente Poi ovviamente anche l'estetica vuole la sua parte Vabbè, quello mi sembra ovvio Anche perché per ora non c'è la possibilità di essere attaccati Quindi, come dicevo all'inizio, è una modalità creativa Quindi possiamo solamente continuare così Cerchiamo Ecco, qua esatto Si può fare Questo facciamo harvest Così almeno c'è qualcosa da mangiare Perché qualcosa da mangiare? Perché i nostri kin I nostri abitanti Hanno bisogno di cibo Noi dovremo occuparci anche del loro sostentamento Ed è una cosa molto importante Cosa stai aggiungendo? Voglio provare a fare una piccola casetta Vediamo un po' Ok Rifè se è il nostro architetto Si occuperà di questo Giusto architetto Eh no, c'è quella pianta Non potrai muoversi Ma, ma, ma Eh Togli la pianta Tasso destro Vediamo Maledetta pianta Togliamo la pianta Un fiorellino mi impedisce di costruire? Vabbè Allora Con il crafting potremo Una cosa anche importante che non ho detto È l'elettricità In questo gioco c'è l'elettricità Infatti se vai ancora indietro di uno Non te lo prende Ok, te l'ha preso A power Potremo creare Come vedete Delle macchine Che ci daranno elettricità E che Altre che funzioneranno Con l'elettricità E quindi dovremo collegarle Con i cavi elettrici E creare anche Una rete elettrica È una cosa originale Che sinceramente L'apprezzo molto Sì, non dispiace È una cosa nuova Insomma La fin fine Non si trova in tutti I giochi di questo genere La fin fine Esatto Occhio che ce n'hai altri 25 Quindi non farà tanto Tanto male Manderò a fare un po' di legna Che Ciop ciop E ciop Ciop E legna Purtroppo non si possono rinominare Gli abitanti È una cosa che adoro Personalmente Come sto facendo una serie Su Stone Earth O qualunque altro gioco Magari dove c'è questa possibilità Qui non c'è Va bene Non una piccolezza Niente di così importante Però era giusto per precisarlo Soffermiamoci un attimo Sui personaggi Perché non abbiamo fatto vedere Abbiamo fatto solo una Un movimento veloce Nei vari Parla solo in generale Esatto Quindi qui Sotto statistiche Possiamo vedere tutto quello Che si riguarda Le loro relazioni Quanto sono stanchi La loro fame Cosa stanno facendo L'età Questo tanto è molto vecchio La forza Il suo status E il nome ovviamente Come dicevo Non si può cambiare Sotto skills Abbiamo le abilità Prima di momento sono queste quattro Quindi il farming Il mining Logging E building Quindi non è un gran costruttore Possiamo vedere Ma è un ottimo coltivatore Esatto Sotto items Abbiamo gli oggetti E quanto è occupato Quanto ha Ora in Cambered Mi viene occupato Però quanto avrebbe Di Lo spazio Nel inventario Esatto Quanto spazio c'è Nel inventario Diciamo così E poi L'ultima cosa Ecco Grazie E l'ultimo È il suo I suoi bisogni Quindi in questo caso Ha bisogno di un letto Allora noi andiamo a fare Un bel letto Appena finiamo Questa costruzione Forse Infiliamo subito Un lettino Ok Vai Allora Mentre Sei già tre Lei li hai già finiti Sì beh Abbiamo molta legna A disposizione Comunque Ma siamo sicuri Che sia legna È andato un albero Qui vicino Non lo so Però è planks Di solito Ah sì Sta aumentando Sì sì Ok Poi un'altra cosa Ah già Facciamo il letto Che dormono all'aperto Che sta arrivando la notte Ma non c'è un modo Per mettere tipo un Puoi usare anche Il timber dark Vedi in questo caso È legna Più scura Sì sì Ce l'è anche qui Abbiamo anche I vari tipi di frutta Attenzione I vari tipi di legna Di legna Sì Ho detto frutta Perché il primo È una frumentria Allora Che volevo fare un pavimento Ma è un po' brutto Ah ma il letto Ce l'abbiamo già Guarda un po' Sì un letto dovremmo Ah no Tanto mettiamone uno Almeno li facciamo dormire Il letto Un letto enorme Si possono girare ovviamente Con la Q e con la E Possiamo ruoteare Il tutto Occhia non costruirlo mai Davanti d'entrata Perché si bloccano Esatto All'estate attuale Si bloccano Sì no Perché ovviamente È aziente da bug Questo gioco Poiché Unirli access Come al solito Le porte ovviamente Non ce le abbiamo No vanno craftate Vanno craftate Però prima Facciamo i letti Quindi vai sempre Sul working bench Bed Scorri che mi sa A destra Bed Scorri con la barretta Sotto a blu Ecco il bed Ecco il bed Scegli tu Allora All'altro è indifferente È indifferente Assolutamente indifferente Cambia solamente il colore No dobbiamo partire con quello Facciamo uno di quest'altro Ok Ne servono altri due Infatti facciamo quest'altro Sì A volte Sebbiamo legna Sì sì Abbiamo in abbondanza Esatto E manca questo Ecco fatto Tutti i letti diversi E i letti sono pronti Non entreranno mai Tutti là dentro No impossibile Infatti Uno dormirà all'aperto Andrò già a fare subito Un'altra cosa accanto Magari Poi si può coltivare Quindi come dicevo prima Esatto Ci saranno dei semi Che probabilmente Già avremo a disposizione Noi potremo coltivare Le nostre risorse Per poter Avere poi un prodotto finito Quindi Chi sarà più alto Prova un po' a Vedere un po' sotto Sizz Sotto semi Sì Ne abbiamo Qualcuno ne abbiamo Qualcuno ed uno Niente di che Però c'è Si può arare la terra Con il comando Tills Till Eccolo lì Arremo un pezzo di terra Ora sta che c'è il buiamo E non si vede più Ok Anche troppo Vai così Ora loro Andranno a arare la terra Prendranno l'attrezzo giusto E inizieranno Ad arare Intanto Vediamo se hanno fatto Qualche letto Perfetto Già ci sono altri Possiamo iniziare a metterli Nel buio più assoluto No Un pochino E due Mettili fuori Perché Non si vede nulla Non ne entreranno altri Aiuto Non vedo assolutamente nulla Manda più velocemente il tempo In basso a destra Come vedete C'è il classico Timer Che ci permette di Velocizzare Rallentare Quindi mandare Procedere a normale O di mettere in pausa Al gioco C'è un fumetto Come vedete Che Chiacchiericciano loro Cantano anche Quando sto seminando A volte Ok hanno lasciato Un cubetto Incompiuto Un cubetto incompiuto Non posso interagirci Con niente Vedete i bisogni Appaiono Nella destra Sullo schermo Ci dice anche Di far crescere Del cibo E poi di creare Qualche altro tools Perché in effetti Ne abbiamo solamente Due per tipo Che sono abbastanza pochi In alto A sinistra C'è un riepilogo Di quello che abbiamo Quindi Quante persone abbiamo Quanto produciamo E consumiamo Per giorno di cibo E il resto Energia Spazio E eccetera Il gioco sicuramente Si sta Ponendo Come un buon titolo Ovviamente Bisogna vedere Dato che siamo ancora Agli albori Del gioco Come gli sviluppatori Proseguiranno Negli upgrade E dove vorranno Andare a parare Sì infatti Sì infatti Magari L'unica persona Che potere È che Secondo Almeno a mio parere Forse è stato fatto Uscire troppo presto Questo gioco In quanto c'è ancora Anche appunto Solo il fatto Del multiplayer Che non siamo riusciti Nemmeno a provarlo Proprio perché Non c'è modo Di entrare Nella partita Che uno va a creare Magari Potevano aspettare Non dico qualche mese Però insomma Prima di fare uscire Un gioco Almeno questo Tanto per buttare Le basi Insomma Perché proprio C'è veramente Solo le basi Del gioco Non è che c'è Molto di più Metti il seed I semi Tornandietro di uno Vai Così si vede anche Come Com'è che piantano Ok Ce n'è ancora Ecco che l'ha messo Vai Mettili un po' tutti Sì infatti Questo è come poi Si occupano Come poi crescono Cresceranno Le varie piante Che andremo A seminare Così almeno Avranno il loro cibo Abbiamo sei però Di pomodori No No Di patate E potatolo Potato Salt flour Ok Comunque L'importante Il nostro compito Era quello di introdurvi Darvi una prima impressione Su questo titolo Penso che Vi abbiamo parlato Vi abbiamo fatto vedere Almeno le basi Di quello che in questo momento Il gioco propone Se siete interessati Come si diceva all'inizio Il gioco avviene 15 euro Per trovare Nella pagina di steam Che abbiamo messo Anche nei commenti Ah Una cosa brava Che mi ho dimenticato Premendo F Potremo Si va in prima persona E ci muoveremo All'interno del mondo Che abbiamo creato E qui proprio Minecraft Gli assomiglia molto Si può correre Tenendo premuto shift E si può saltare Con la barra spaziatrice Si è come se fossimo Venti uno di questi personaggi Esatto Come se fossimo Dei kin Notarece Sono anche dei bambini Si Ok con la F Torniamo la nostra visuale dall'alto Ok Con questo Abbiamo detto tutto Speriamo vi sia piaciuto E non ci resta che A vederci Augurarvi Una buona giornata E ci vediamo al prossimo video Alla prossima Ciao ragazzi Ciao ragazzi